Se guardando la tv vi sentite costantemente catapultati nel passato, aprite una finestra sugli appuntamenti di Marsciano 7 per vedere cosa accade ad oggi nel territorio della media vale del Tevere. Con la puntata numero 64 inauguriamo l'inizio di un lungo viaggio nel 2013. Un palazzetto solare. Inaugurato l'impianto fotovoltaico installato sul tetto del palazzetto dello Sport di Marsciano. Se non la prima è sicuramente una delle più grandi coperture di un impianto sportivino in Umbria con il fotovoltaico. Palazzetto dello Sport appunto inaugurato il 12 gennaio 2013. Sentiamo un po' l'assessore allo sport di Luigi Anniboletti su cosa ci dice su questo impianto. Beh direi innanzitutto che è una grandissima opera e comuni che hanno la forza di fare opere di questo genere in momenti così difficili non ce ne sono tanti. Tra l'altro aggiungo che è l'inizio di una grande rivisitazione della possibilità di utilizzare il palazzetto dello Sport qui a Marsciano perché eseguiranno proprio nel 2013 e quindi cominceranno a brevissimi lavori anche di ampliamento di questa struttura. fotovoltaico innanzitutto la necessità di eliminare quello che era il cementamianto per i costi che continuamente si sostengono per rendere comunque il cementamianto sicuro ma comunque rimane sempre un minimo di margine di dubbio sul fatto che insomma effettivamente ci sia un pericolo e quindi abbiamo unito da una parte la possibilità integrata con un contributo della regione di eliminare il cementamianto e parliamo di 31.000 kg di cementamianto molti metri cubi 2600 credo metri cubi di metri quadrati di cementamianto e dall'altra parte la sostituzione con dei pannelli fotovoltaici di ultima generazione che come dire da una parte rientrano in un quadro strategico del nostro comune sull'implementazione delle energie alternative dall'altra parte rendono il palazzetto visibilmente migliore, più carino e ce lo mettiamo anche in fondo ma voglio dire di questi tempi conta la possibilità da questi lavori poi alla fine al netto sostanzialmente quindi pagando l'investimento, pagando l'ammortamento di riuscire anche a incamerare qualche soldo. Da Andrea Paoloni uno dei soci dell'azienda che ha realizzato l'impianto fotovoltaico qualche numero sull'importanza di questo investimento? I numeri possiamo, partiamo dalla parte tecnica, la potenza dell'impianto è circa 74 kW di impianto fotovoltaico su una superficie totale di 2200 metri quadri, questo impianto produrrà circa 88.500 kWh che coprirà l'attuale fabbisogno di energia elettrica della struttura che ha il suo picco dei consumi nella parte estiva Da punto di vista economico quindi questi kWh, 88.500 kWh, come possiamo vedere dallo schema qui avranno un incentivo di circa 33.000 euro anno In più ci sarà l'esubero dell'energia che non viene consumata in sito ma ceduta alla rete elettrica porterà circa altri 3.700 euro di introito In più ci sarà il risparmio della bolletta perché tutta l'energia che uno consumerà durante il giorno non la comprerà all'Enel e ha un ulteriore introito di circa 8.850 kWh Se uno fa la somma di tutto, quindi il comune con un investimento di risorse comunali ecco 264.000 euro incasserà circa 45.000 euro l'anno quindi come possiamo vedere in sei anni il contributo comunale viene ripagato Nell'intervento è stata inserita anche un'ottica nella riqualificazione energetica dell'edificio che cosa vuol dire che sotto al pannello fotovoltaico è stato inserito un isolante termico come in tutte le classiche strutture questo farà sì che oltre al risparmio energetico quindi minor gas consumato sempre tramite il quarto conto di energia il comune potrà accedere a un ulteriore incentivo della tariffa incentivante andranno fatti dei calcoli però fino a un massimo del 30% si potrà accedere a un ulteriore introito il numero preciso lo forniremo nei mesi prossimi perché dobbiamo fare i propri calcoli per poter accedere a questo ulteriore incremento di tariffa